Un grave incidente è avvenuto nel terzo pomeriggio di martedì attorno alle 19 a Canal di Valle. Un 31enne di volto di rosolina, mentre si dirigeva verso Cavanella d'Adige, è venuto in contatto con una panda guidata da una donna di Chioggia. Nel cadere il giovane ha riportato un trauma importante alla testa, quasi immediato all'intervento del pronto soccorso di Chioggia, dove è stato portato in pochissimi minuti. Poi è stato stabilizzato ed è stato trasportato all'ospedale di Mestre. Grazie. 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 Grazie.